Il progetto di consolidamento strutturale e ammodernamento architettonico del Ponte Belvedere dell'Aquila non si farà, o meglio, non si farà quello redatto dallo studio di ingegneria toscano Romolini, che nel 2016 si era giudicato lo studio di sicurezza e progettazione perché l'incarico professionale è stato risolto, chiuso. È quanto è scritto in una determinazione dirigenziale del settore di costruzione opere pubbliche datata 19 febbraio, che in sostanza riporta una risoluzione consensuale del contratto tra lo studio ingegneristico e il comune dell'Aquila. Alla base di questo divorzio c'è l'importo del finanziamento. Con una comunicazione PEC inviata il 5 ottobre scorso, lo studio Romolini ha comunicato infatti l'impossibilità di proseguire l'incarico a causa dell'importo del finanziamento, non sufficiente a garantire la copertura dell'intervento. Si dovrà dunque ricominciare tutto da capo con una nuova gara d'appalto per affidare nuovamente il progetto. Intanto però il comune dell'Aquila dovrà rimborsare lo studio del lavoro fatto sinora e ai professionisti riconosce oltre 3.500 euro. Meno di un anno fa, a ridosso del crollo del ponte Morandi a Genova, che suscitò preoccupazione per la tenuta di alcuni viadotti e ponti anche in Abruzzo, e tra questi il ponte Belvedere, il comune si disse pronto a partire con l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori. Dopo nove anni partiranno finalmente i lavori di un nodo stradale fondamentale per la città, aveva detto l'assessore alle opere pubbliche Guido Quintino Liris, che però dopo la risoluzione dell'incarico resta irraggiungibile, lasciando la questione senza una risposta. Risposta che tutta la città sta aspettando ormai da dieci anni, essendo il ponte un collegamento importante e che, rimanendo precluso, divide in due la città. I lavori avrebbero dovuto riguardare il consolidamento della campata, il tratto cioè lineare del ponte dove poggia la strada, che si sarebbe dovuto ricostruire in acciaio e non i piloni. Ora, la risoluzione del contratto potrebbe riaprire il dibattito sull'abbattimento di un ponte ormai vecchio, costruito negli anni Sessanta, idea avanzata dall'ex amministrazione comunale.